Un benvenuto da parte di Biagio Mannino. Il mercato immobiliare cinese sta mostrando dei segni di sofferenza, un fattore questo che si lega principalmente al cambiamento della strutturazione economica e finanziaria del contesto della Repubblica Popolare Cinese a seguito proprio di quanto accaduto a partire dal 2020, ovvero l'inizio dell'epidemia di coronavirus e tutto ciò che ha comportato nell'ambito degli equilibri mondiali. Il mercato immobiliare ha rappresentato sostanzialmente quel grande cambiamento che ha caratterizzato la Cina, la cena dello sviluppo che guarda quel 1997 come il punto di partenza quando Hong Kong passava dall'amministrazione britannica a quella della Repubblica Popolare Cinese. Iniziava quel principio uno Stato, due sistemi che poi di fatto ha rappresentato quella che è la Cina di oggi, quella Cina che guarda il 2032 come il punto di riferimento per il superamento dell'economia cinese nei confronti di quella statunitense e da ciò il mercato immobiliare. Infatti tantissimi sono stati cittadini cinesi che si sono riversati dalle campagne alle grandi città, quelle grandi città che hanno assunto delle dimensioni decisamente importanti e notevoli fino a raggiungere numeri impressionanti come Shanghai, 31 milioni di abitanti, la stessa Pechino che segue con qualche milione in meno ma mantenendo sempre numeri decisamente notevoli. Basti pensare anche che una città di 3 milioni di abitanti nel contesto della Repubblica Popolare Cinese viene considerata sostanzialmente medio-piccola. E di qua l'improvvisa importanza assunta dal mercato immobiliare che si lega anche alla visione cinese del sogno, del sogno ovvero quello di possedere una casa. Sono stati moltissimi infatti i cinesi che hanno intrapreso il percorso di iniziare quel impegno finanziario proprio per riuscire a raggiungere il coronamento di questo desiderio ovvero l'acquisto della casa. Ma da qui le cose sono cambiate e sono cambiate profondamente anche perché il mercato immobiliare cinese ha subito delle importanti contrazioni fino addirittura ad arrivare a delle situazioni alquanto problematiche ovvero il fallimento di quelle imprese che si occupano appunto della realizzazione delle case. Problemi, problemi che hanno mostrato ovvero situazioni alquanto paradossali dove sono molti cittadini cinesi che si trovano a pagare le rate di case che non vedranno mai in quanto non costruite e in quanto anche non verranno mai costruite. Insomma aspetti che hanno creato un grandissimo malessere e malumore nel contesto della stessa società cinese. Ma adesso stanno emergendo anche altri dati ovvero quelli della perdita di valore dello stesso mercato immobiliare nel contesto della Repubblica Popolare Cinese che sta rappresentando anche delle contrazioni particolarmente decise. Infatti il valore delle case si sta progressivamente depreciando andando a creare anche delle situazioni ulteriormente paradossali nel contesto del mercato immobiliare cinese ovvero che chi ha acquistato case in passato si ritrova a possedere immobili che valgono meno di quando li avevano comprate. Ebbene questa è una situazione che in questo momento sta creando un grande allarmo soprattutto nel settore dell'edilizia nel contesto della Repubblica Popolare Cinese che continua a vedere lo sviluppo delle città e l'aumento degli abitanti soprattutto nel contesto delle grandi città dove continuano a rappresentare l'attrattiva soprattutto per tutta quella componente sociale che guarda dalle campagne nella direzione delle città. Al punto tale anche che di fatto si tenta di limitare l'arrivo nelle città, nelle grandi città ovvero quelle superiori ai 3 milioni di abitanti andando a creare dei sostanziali paletti sociali. Ma altrettanto vero è che il mercato immobiliare in Cina in questo momento mostra come detto segni di grande sofferenza in quella che è una società che sta affrontando sostanzialmente un rallentamento. Un rallentamento di quella corsa che ovviamente prima o poi doveva esserci e che di fatto si sta manifestando un po' in tutti gli ambiti. Insomma la Cina come dire deve trovare una fase di assestamento, di assestamento a una grande corsa, a un grande sviluppo che l'ha portata ad essere se non la primaria una delle prime realtà, una delle prime potenze nel contesto globale ma che adesso si trova come detto ad affrontare una fase nuova, quella di un sostanziale adattamento anche alla propria forza e alle proprie dimensioni in tutti gli ambiti. Per oggi abbiamo concluso.